Educare alla legalità, alla sicurezza e al confronto con le forze dell'ordine a partire dalle singole famiglie alle scuole. Si sa l'argomento è complesso, sensibile, le posizioni dei cittadini potrebbero essere contrastanti. La sicurezza è un bene comune e questo l'appello fatto dal comandante del reparto territoriale di Gela, il tenente Colonnello Antonio De Rosa, intervistato ai nostri microfoni. I carabinieri non sono fine se stessi, sono gente tra la gente, sono gente voluta dalla gente e quindi la sicurezza non è un bene dei carabinieri, la sicurezza è un bene collettivo cui ognuno per quanto compete deve dare il suo contributo. E questo può passare soltanto attraverso la maturazione di una cultura della legalità. È chiaro che non si chiede l'esposizione gratuita al pericolo al singolo cittadino, però avere la coscienza di far parte di una comunità e di poter dare il proprio contributo, piccolo che sia, è fondamentale perché il bene pubblico possa essere preservato e la collettività possa prosperare e proseguire in sicurezza.